Bene, adesso ci spostiamo a Milano, dove stiamo per collegarci con una figura ancora che ci aiuta a cambiare mondo dalla nutrizione. Stiamo tornando al mondo della psicologia, ma in un modo molto particolare, quello legato al mondo delle abitudini e non solo. Mi collego con grande gioia anche perché a Milano, appunto, in collocamento con noi c'è un caro amico, Gennaro Romagnoli. Gennaro, ci sei? Gennaro, mi senti? Gennaro, ti vediamo e non ti sentiamo, quindi aiutiamo un attimo dalla regia. Gennaro, mi senti? Sì, ti sento. Ciao, Daniele! Caro Gennaro, come stai? Sì, molto bene, che bello essere qui, sono contentissimo. Sono molto contento di vederti, tra l'altro questi sono tempi talmente particolari, che vedi che magari non ci si vede, non ci si sente, ma siamo sempre in contatto, più ora che mai. Assolutamente, assolutamente. Siamo qui e siamo super interconnessi. Ho guardato prima un po' in giro Instagram, social e ho visto un sacco di movimento, per cui c'è tutta l'Italia che ci sta guardando. Assolutamente, assolutamente. Sono tanto contento anche perché posso, appunto, come ho detto già questa mattina, tra l'altro, caro Gennaro, tu sai, noi stiamo galoppando da stamattina alle 8. Sono quindi già tre ore e un quarto di diretta, in una dinamica estremamente nuova. Quindi, davvero, davvero complimenti fin qua a tutti i tecnici e tutti i relatori che fin qua si sono intervellati. La cosa bella che dicevo all'inizio al pubblico che ci segue da casa è che ho la fortuna e il piacere di relazionarmi con tanti amici, perché Gennaro, noi ci siamo anche conosciuti anche dal vivo, non solo ci seguiamo nel mondo dei social, ma per la serie abbiamo anche mangiato insieme nei tempi in cui si poteva mangiare insieme. È vero, che mangiata, mi ricordo quando ancora ti scambiarono per Fabio Volo. È certo, è certo. Poi quella è stata la mia condanna. Da quel momento in poi non posso più andare in quel ristorante perché ogni volta che vado tirano fuori quella storia. Che poi che ciazzecco io con Fabio Volo? Vabbè, amici da casa, ma io c'entro qualcosa con Fabio Volo. Comunque, detto questo, caro Gennaro, vai alla grande sui social, ti seguo sempre, tu lo sai. E qui io ho un appunto su quello che è l'intervento che vuoi fare oggi. Innanzitutto mi prendo un momento per presentarti al pubblico da casa che non ti conosce. Psicologo, psicoterapeuta, autore di Psinel, che è appunto il podcast di psicologia e crescita personale più ascoltato in Italia. Tra l'altro ho avuto il piacere anche di essere ospiti in una puntata qualche anno fa di quel fantastico podcast che stai portando avanti. Nel tuo intervento di oggi ci parlerai delle abitudini, giusto? Di queste beneamate abitudini, di come si formano e di come creare, tra l'altro, questa è una cosa che mi piace molto, è questo sistema di abitudini efficaci nell'allenamento e nella vita. Allora devo dire che questa cosa, mi prendo un momento di questa chiacchiera che facciamo... Vai di corsa, Gennaro? No, almeno ci prendiamo un momento per chiacchierare, poi ti lascio. Io sono un pigro, no, Gennaro? Io sono il classico uomo medio che passerebbe la sua vita sul divano guardando Netflix, mangiando Just Eat. Poi però ho scoperto, anche grazie a voi, a te e a tantissimi altri divulgatori che portano avanti questo importante lavoro di crescita personale, cosa che essendo un attore non posso non considerare, e quindi ho cominciato, anche grazie a voi, a imparare che ci sono delle cose che ci possono fortemente aiutare, quindi a cominciare a mettere insieme una serie di abitudini. E la cosa curiosa è appunto perché, essendo un pigro, manco me ne ero accorto che io fino a quel punto avevo messo insieme una serie di abitudini che erano controproducenti. Quindi è una bella tematica all'inizio, perché quando dice, ma le abitudini salutari, ma io non ho abitudini. In realtà mi ero accorto, grazie a voi, che avevo una serie di abitudini che invece andavano nell'esatta direzione opposta. È così, è così, cioè è difficile accorgerci del nostro mondo abitudinario, perché l'abitudine è sinonimo di automatismo, è qualcosa che scatta così automaticamente, per cui te ne accorgi un po' dopo che è scattata questa abitudine. È un sistema molto particolare, meraviglioso e molto complicato e oggi cercherò in dieci minuti di renderlo semplice, di splicarlo. Caro Gennaro, allora, come dico, ti lascio lo schermo, ti lascio il palco, ci vediamo più tardi. Vai, Gennaro. Ok, beni, beniusu, attottusu. Questo è un saluto che spero di aver detto bene in sardo in questo momento. Io in teoria dovrei poter condividere lo schermo con voi, così, in modo da poter condividi, farvi vedere le mie slide. Vediamo un po', se riesco in questo momento ad aprire la presentazione. Non so se si riesce a vedere la presentazione, se è in condivisione. Ok, ok, ora, non so se si riesce a vedere, perché io non vedo più il canale completamente, ma aspettate che provo ad aprirlo, aspettate che cercherò di essere il più veloce possibile. Allora, di certo, ci sono, mi senti? Tu mi senti? Ti dicevo solamente che ora si vede perfettamente la tua slide. Abituati a vincere. Perfetto. La vediamo. Buon proseguimento. Grazie mille. Allora, eccoci qui. Ripeto, riprovo, beni, beniusu, attottusu, che è un po' il mio saluto alla Sardegna, questa meravigliosa terra. Oggi vi parlerò di abitudini, che è una tematica che noi psicologi trattiamo da diverso tempo, ma i veri esperti dell'abitudine sono consapevolmente o inconsapevolmente proprio gli sportivi. E infatti gli sportivi sono maestri dell'abitudine, perché senza una buona abitudine è davvero difficile portare avanti dei risultati importanti come quelli che tutti i giorni vediamo accadere nel mondo dello sport, nel mondo dell'allenamento e in generale nel mondo della prestazione. Però prima di iniziare vorrei invitare tutte le persone che ci stanno guardando a fare un piccolo gioco. E un piccolo gioco. Prendete la vostra mano dominante, quella con cui scrivete, nel mio caso la destra, appoggiatela sulla fronte, delicatamente, ok? E disegnate una bella G. Ok, vi chiedo di... Fatemi sapere, ok? Vedo in pubblico che molti l'hanno disegnata, ovviamente. Sto scherzando, però tenete a mente in che direzione avete appena disegnato la vostra G. Era in modo che la potessi leggere io, in modo che la poteste leggere solo voi. Tenete a mente questo piccolo dato perché alla fine potrà tornarci utile. Quindi, l'inganno della motivazione. È chiaro che per attivare un'abitudine, come dicevo poco fa insieme a Daniele, l'abitudine è sinonimo di automazione, qualcosa che scatta automaticamente in risposta a un segnale. Questo segnale, però, è attivato dalla tua motivazione, cioè da ciò che ti spinge a fare quelle cose. E la motivazione funziona un po' esattamente come vedete qui in questa slide, è come un missile, un razzo. Tutti abbiamo avuto questa esperienza. Iniziamo la dieta, per le prime settimane siamo motivati e poi dopo un po' di tempo la motivazione decresce. Perché? Perché la motivazione è un'energia limitata. Ed è per questo che l'azione migliore che possiamo fare è utilizzare la motivazione, questa energia limitata, per costruire delle buone abitudini. Ed è ciò che cercheremo di fare oggi. Vediamo quali sono gli ingredienti, i due macro ingredienti delle abitudini, che sono per l'appunto la consistenza, cioè la ripetizione di qualche cosa, ovviamente è l'ambiente. Quanto tempo ci serve per sviluppare una buona abitudine? Dovete sapere che questo dibattito è millenario. Aristotele parlava di 21 giorni necessari per poter costruire un'abitudine, poi abbiamo fatto un calcolo più esteso, abbiamo scoperto che sono oltre 250 giorni, non spaventatevi, diciamo una media di 66 giorni. Pertanto per poter sviluppare una buona abitudine serve una ripetizione per 66 giorni mediamente. Quindi se è semplicemente bere un bicchier d'acqua ci metterete di meno, se invece ad esempio creare una buona routine di allenamento o pre-gara ci si mette un po' più di tempo. Ma adesso vediamo come implementare anche le routine più complicate e più complesse. Ma soprattutto che cosa succede quando tu crei un'abitudine? Quando crei un'abitudine si formano dei nuovi neuroni nel tuo cervello. Vecchi neuroni vengono mandati via, nuovi neuroni nascono, crescono ogni giorno a tutte le età e questo è comprovato. Ovviamente non è che il nostro cervello cambi radicalmente, ma queste strade diventano talmente forti, aggiungendo tra virgolette, i neuroni sono come dei figli elettrici, diciamo così, perdonatemi esperti. Ovviamente che state guardando. Ciò che accade praticamente è che questi cavi elettrici diventano via via sempre più cablati, come se aggiungessimo dei fili intorno a questo cavo elettrico ogni volta che ripetiamo una certa azione. Quindi come iniziare a implementare le vostre abitudini? La prima cosa è modificare il vostro ambiente. Adesso vi dirò una roba che sembra quasi una barzelletta, ma che è davvero, come potremmo dire, centrale. Se al supermercato non compri la Nutella, la Nutella non la mangi. Adesso però Nutella, qualsiasi altro tipo di cibo, non, diciamo così, sconsigliato per chi desidera, ad esempio, fare una dieta. Ecco, mettiamola così. Questa regola, che è stata creata da uno psicologo molto famoso che si chiama Sean Hacker, è stata comprovata da numerosi studi. In altre parole, più una cosa è vicina a te, e più facilmente la utilizzi. Sembra la scoperta dell'acqua calda, se ci pensiamo, però è molto più profonda di quanto possiamo mai immaginare. Perché una cosa vicina a noi è più semplice da utilizzare? Perché la motivazione necessaria, quel missile che abbiamo visto prima, si abbassa, diciamo, la energia di attivazione dell'abitudine si riduce al minimo. Pertanto il primo consiglio è proprio quello di strutturare un ambiente fatto in tal modo. Questo, ripeto, sembra un po' una piccola barzelletta, ma non la è per niente. Infatti Richard Taylor, con questo libro famosissimo in Italia, Nudge, la spinta gentile, non solo ha portato questo concetto di modifica dell'ambiente in modo che l'ambiente diventi il contesto che attiva nuove abitudini, nuovi comportamenti, ma dovete sapere che Richard Taylor nel 2017, in parte anche per queste scoperte, ha vinto il premio Nobel. Cioè, in altre parole, stiamo parlando di una roba che sembra la scoperta dell'acqua calda, ma non lo è per niente. Quindi, se voi volete migliorare le prestazioni, sia vostre, dei vostri atleti, dovete disegnare un ambiente che faccia scattare facilmente le nostre abitudini. Tuttavia, le abitudini non sono tutte così semplici, potremmo dire. Le abitudini hanno dei gradi di complessità differenti. E pertanto, adesso vi mostro uno schemino per la costruzione di una qualsiasi abitudine anche molto complessa. Questo schemino è di un collega che si chiama BJ Fogg, più tardi magari farò una piccola rassegna bibliografica, ed è composta in tre parti. Per l'appunto, abbiamo la mini-versione dell'abitudine. Cioè, significa prendete l'abitudine complessa e fatene una mini-versione. Se, ad esempio, volete imparare a meditare e dovete o dovreste meditare mezz'ora, iniziate a fare cinque respiri tutti i giorni. Questa è la mini-versione. Se volete imparare a suonare la chitarra, prendete la chitarra e decidete di suonarla per tre minuti, cinque minuti, o di fare due movimenti con le dita. In altre parole, dovete prendere la versione della vostra abitudine e farne un modello piccolino. Successivamente, uno degli aspetti più importanti è questo, identificare dei segnali di azione. Cioè, dei segnali contestuali. È proprio questo che hanno scoperto i miei colleghi, che nel momento in cui devi cercare di capire in quale punto inizia, finisce una certa abitudine, in quale modo si implementa all'interno della nostra vita, l'aspetto più semplice da modificare è la qualità dello stimolo contestuale. È infatti lo stimolo contestuale quello che fa scattare le nostre abitudini. Vi sembrerà assurdo, ma se andate a leggere il libro di Taylor scoprerete delle cose pazzesche. Ad esempio, sono riusciti a modificare l'abitudine all'interno di una scuola superiore nel consumare bevande gasate. In altre parole, hanno preso le varie bevande gasate che tutti conosciamo, le hanno messe in posti lontani dalla cassa e vicino alla cassa hanno messo dell'acqua, della frutta, della verdura e l'incremento e il consumo di questi, diciamo così, prodotti molto più salutari è cresciuto significativamente e il consumo delle bevande gasate è decresciuto. Quindi, come si fa? Esistono tre tipi di segnali di azione. Quelli che, i peggiori, quelli interiori. Domani mattina mi sveglio e faccio il mio allenamento. Certo, possiamo tenerlo a mente, ma finché non abbiamo costruito un'abitudine non sarà facile tenerlo a mente. Secondo tipo di segnale, un segnale esterno, una sveglia, un post-it, qualcosa che mi ricordi. Questo è già migliore. Qua potete già iniziare a immaginare come potreste farlo. E poi c'è il migliore di tutti, che è un segnale contestuale collegato ad un'abitudine precedente. Se, ad esempio, tutte le mattine avete già l'abitudine di fare un po' di stretching, allora subito dopo lo stretching aggiungete quest'altra abitudine, ad esempio meditare. Quindi, dopo lo stretching, mi metto un bel post-it, dopo lo stretching medito. Magari nella stessa sala, nel stesso luogo dove fate lo stretching, mettete lì il cuscino per la meditazione, un'immagine sulla meditazione. Se volete, ad esempio, migliorare, non so, la vostra capacità nel parlare l'inglese, ogni volta che mi faccio la doccia ripeto dieci frasi in inglese. In altre parole, dobbiamo trovare degli stimoli che siano contestuali a quell'azione, sfruttando così, in questo modo, l'attivazione che già appartiene a quell'abitudine precedente. Quindi, prendiamo un'abitudine, la shrinchiamo, come dice BJ Fogg, quindi la rendiamo piccola nella mini-versione, cerchiamo dei segnali contestuali di azione, cioè di abitudini che già esistono, e poi ci gratifichiamo. So che questa sembra la scena più stupida da fare, ma gratificarci, che potrebbe significare fare una spunta sul calendario, darci un'autopacca sulla spalla, dire yes, ce l'ho fatta, sembra una cosa banale, ma è stato provato scientificamente che piccole gratificazioni conducono ad un apprendimento molto più veloce, perché viene a mettersi insieme quello che viene chiamato il ciclo della ricompensa. Quindi, dobbiamo via via alzare l'asticella, via via alzare l'asticella. C'è uno studio recentissimo fatto su i giocatori di golf, all'interno del quale si vede chiaramente come il via via che negli anni sono stati studiati i tornei più impegnativi di golf, è stato visto che man mano in quei tornei dove il par diminuiva, per intenderci sono, per chi non lo sapesse, so che tutti voi lo sapete, ma per chi si sta guardando da casa, il par è il numero massimo di tiri consentiti per raggiungere la buca, in quei tornei dove il par diminuiva di anno in anno, cioè diventavano più difficili, i giocatori performavano sempre meglio. Quindi alzare l'asticella, ma gradualmente, come abbiamo visto prima. Quindi andiamo verso la fine, abbiamo quasi finito, quindi vi chiedo, da che parte avete disegnato la vostra G? Perché in questo modo potrete sapere se siete più motivati dall'interno, cioè da voi stessi, oppure dall'esterno. Se l'avete disegnata in modo che potessero leggerla le altre persone, significa che siete eteroriferiti, cioè siete più predisposti a farvi motivare dagli altri, pertanto cercate un allenatore, oppure fatelo sui vostri atleti e motivateli maggiormente. Se invece siete autoriferiti, cioè l'avete disegnata in modo da leggerla solo voi stessi, ecco che questo significa che siete bravi ad automotivarvi, questo non significa che non dobbiate o non abbiate bisogno di una motivazione. E quindi, volgiamo al termine, le migliori prestazioni sono il frutto delle migliori abitudini. Ed ho finito. Vediamo un po' se sono stato in tempo. 11 minuti e 38. Caro Gennaro, mi senti? Ti sento, ti sento Daniele. Guarda, allora facciamo una cosa se ti va. Ecco, proprio esci dalle slide, così almeno vediamo di nuovo anche il tuo volto che almeno siamo insieme altri due minuti, se ce li hai. Sì, sì, ce li ho volentieri, devo solo cercare di capire come si fa. Questo è il bello, non è il bello, è la meraviglia della diretta, perché è la diretta della diretta di qualcosa che nessuno ha mai sperimentato prima. In questo momento, secondo me, la meditazione aiuta molto, vero Gennaro? A respirare. Tantissimo. Respirare profondamente. Facciamolo insieme, stiamo affrontando un momento di difficoltà e quindi allora insieme respiriamo, siamo presenti e sono convinto, ottimisti, come diceva prima anche Terenzio Traisci, facciamo il nostro viaggio per fare tutto e io non ho dubbi che riusciremo in questa nostra impresa. Riusciremo, appena riesco a capire. Perché ho voglia di vederti negli occhi ancora, caro Gennaro, amico mio. Eccoci, eccoci, eccoci. Proviamo. Pensavo di essere sparito completamente, ma vediamo un po', si può togliere la condivisione. Eccoti, ti vediamo. Ecco qui. Caro Gennaro, sai una cosa che mi manca tanto? Vabbè, io sono ovviamente un uomo di spettacolo, quindi mi mancano gli applausi. Sarebbe bello dalla regia al prossimo anno facciamo inserire gli applausi virtuali, sperando addirittura che il prossimo anno ci possano essere gli applausi dal vivo. Senti, Gennaro, una cosa, anche prima con Terenzio, che è, posso definire, un altro di quelli che in questo viaggio meraviglioso mi hanno permesso di conoscere tutto questo lavoro di divulgazione, no? Legato alla psicologia, al benessere, tramite proprio l'online. E soprattutto, diciamolo, con l'altra grande, grandissima caratteristica che moltissimi dei contenuti che tu porti avanti sono estremamente gratuiti, quindi il mio invito innanzitutto e a tutti coloro che ci seguono di seguirti in tutti i canali social, Instagram, giusto? Instagram e poi il tuo podcast, giusto? Il podcast, sì, un po' di là. una cosa interessantissima che il nostro Gennaro fa, lo dico alle amici da casa, è che appunto quando lui ha, aveva, non so se la parti ancora avanti questa abitudine, ma quando avevi la possibilità di camminare e di spostarti per il lavoro, facevi le stories e rispondevi a tutti quelli che ti fanno domande. Forse ora non le puoi più fare perché ricevi troppe domande. No, no, c'è ancora, c'è ancora la passeggiata che è metà fuori quando posso con la mascherina che non è bellissimo, però è giusto tenerla e l'altra metà le faccio qua in casa, la chiamo la non passeggiata. Perché l'hai dovuta, hai dovuto trovare un'evoluzione perché originariamente era una passeggiata che tu facevi proprio veramente al lavoro, andavi, cioè ti spostavi all'andata, raccoglievi le domande e poi ritorno, rispondevi, no? Una cosa del genere. E' da lì che io ho cominciato un po' a seguirti e poi ho avuto il grande piacere di conoscerti dal vivo. Senti, Gennaro, esattamente come ho fatto con Terenzio, ti andrebbe di, dimmi se, è una cosa non provata, quindi, ti andrebbe di di guida, io mi offro come cavia, facciamo un esercizio di un minuto, sono una cavia, usiamo un minuto per condividere, se ce l'hai, un esercizio che tutti coloro che sono a casa poi possono fare, un esercizio che ci possa aiutare, credo, in questi giorni, a ritrovare una calma, una centratura, oppure sceglilo tu l'argomento, io sono la tua cavia, che mi fai fare? Oh, benissimo, guarda, una cosiddetta, una calma, la centratura è una cosa ottima, quindi, se sei tu, se adesso sei in piedi, ti vedo in piedi in questo momento, quindi, mettiti con le braccia belle sciolte lungo il corpo. Posso la cartellina allora, eh? Vabbè, tienila pure in mano la cartellina se vuoi. No, 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 facciamole bene. Ok, pure così, bello sciolto, così, non me lo fate fare solo a me, facciamolo tutti insieme. Allora, in piedi, scusami, ecco qua, vai, ci sono. Porta attenzione ai tuoi piedi e per prima cosa nota se senti più un piede o più l'altro, se ti sembra di sentire più il piede destro, più il piede sinistro. Dottore, sento più il destro, sento più il destro, dottore. Bene, ecco, attenzione, dovresti chiamare, scherzo. È grave, sono grave, dottore? No, non è grave, sei vivo, sei vivo, questa è una parquetatela che magari ci spiegherà barbascura dopo se è un complotto oppure no. Oppure no. Quindi, portate attenzione ai vostri piedi, al vostro corpo, sentite il vostro corpo, provate a notare davvero questa sensazione di essere vivi. In questo momento, mentre portate questa attenzione, portate anche attenzione per un istante alla sensazione del vostro respiro mentre entra e mentre esce. Ora guardatevi attorno e notate due o tre colori. Lo faccio anch'io, eh? Sì. Notate due o tre colori. Qui Giannaro, Giannaro è tutto buio qui, però va bene, cerco due o tre colori. Notate se c'è qualche suono. Sì. Ok. Basta. Complimenti, avete appena meditato, siete usciti per qualche istante dalle vostre mappe mentali. Se siete riusciti per qualche istante a vedere davvero dei colori, a sentire davvero delle sensazioni nel vostro corpo, in quel frangente eravate fuori dalla vostra simulazione mentale. Perché la nostra testa è un po' un simulatore mentale. Ce ne accorgiamo, sai quando? Quando facciamo le scale e per sbaglio pensiamo ci sia uno scalino o che ci sia uno scalino. In quel momento c'è quello svarione che tutti abbiamo provato. Ah, ma succede anche a te? Perché a me pensavo, io abito al quarto piano senza ascensore e pensavo accadesse sempre solo a me. Caro Giannaro, aspetta che raccolgo la nostra cartellina. Abbiamo meditato con tutta Italia per un minuto. Grazie Gennaro Romagnoli, grazie mille e spero davvero di rivederci presto intanto noi poi, caro Gennaro. Lo spero anch'io. A Kentannos, un saluto a Daniele, a tutti, al Coni, e alla Sardegna. Ciao a tutti. Ciao Gennaro, grazie ancora. E quindi, linea alla regia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.